Presidente, come sta? Abbiamo integrato le tradizioni anche al poltrono delle materie vitine perché noi abbiamo una consulia su Udine dove acquistiamo le pelli, così come a Napoli abbiamo una parte. Ci appassiona molto. Sì, sì. Dare una fraternità. Quello lì è uno dei nostri codici, l'albero di olivo anche, che lo utilizziamo. Sì, 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 sì. Vai, vai. Grazie. 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 Grazie.